Musica E buongiorno dalla redazione di ETV, benvenuti al consueto appuntamento con la rassegna stampa. Venerdì 15 luglio vedremo insieme le notizie che arrivano dalla nostra regione leggendo Corriere Adriatico e il resto del Carlino e anche le notizie nazionali. Ovviamente come ben sappiamo tutto è incentrato sulla crisi di governo e se ne parla anche qui nelle Marche perché trovate la notizia sul nostro sito. Ve l'abbiamo data anche ieri in chiusura di TG ovviamente delle dimissioni di Draghi ma si discute anche qua perché ieri si era espresso Prodi dicendo che non credeva nelle dimissioni del Premier. Invece dimissioni che sono avvenute anche se respinte dal Presidente della Repubblica. E allora Letta che è ad Ancona anche lui come Prodi per partecipare al convegno della Fondazione Merloni ha commentato la crisi dell'esecutivo dopo lo strappo in Senato del Movimento 5 Stelle. Lo strappo che ruota attorno al termovalorizzatore a Roma almeno questa è la motivazione ufficiale. Letta ha detto credo sia interesse di tutti che Draghi prosegua un interesse che sta maturando anche con forte spinte che provengono da ovunque anche dalle parti sociali, dal mondo del lavoro, dall'Unione Europea. Dunque penso si debba verificare se la maggioranza vuole andare avanti oppure no e questo può avvenire solo in Parlamento. Questa è la pronuncia di Enrico Letta proprio ieri sera durante il convegno della Fondazione Merloni e così avete avuto modo di vedere anche il nostro sito sempre aggiornato dove potete trovare tutti i nostri servizi e le notizie dell'ultima ora. Ma adesso come dicevamo iniziamo a vedere insieme i giornali. Partiamo dal Corriere Adriatico. Come sempre prima pagina del Corriere Adriatico di Ancona. Il titolo Nessuno fa più il cameliere dunque un problema che continua a tornare di anno in anno e quest'anno ancora di più ne parliamo anche noi da tempo di questo allarme lanciato dai ristoratori. Il personale non si trova a picco gli affari dei locali, i giovani non vogliono più lavorare nei weekend e ancora si dice che l'aumento dei contagi frena il turismo. Le disdette aprono buti last minute degli hotel dunque non è un buon periodo sembra tra i problemi nel trovare personale e poi i problemi anche legati al ritorno del covid e quindi alle prenotazioni che vengono annullate. Ed ora la bellissima fotonotizia dedicata al maestro Muti che ieri sera si è esibito a Loreto alla Santa Casa per la pace da Lourdes a Loreto sulle note della pace. Qui un momento di prima del concerto quando è stata consegnata al maestro un'onorificenza dell'ambasciatore ucraino. Tra l'altro ricordiamo che nel concerto si sono esibiti artisti italiani ma anche diversi artisti ucraini che arrivavano da Kiev. Quindi una bellissima occasione per ascoltare la musica ma anche per pensare alla pace. Noi ve ne abbiamo parlato ieri sera nel nostro Tg. Ed ora vediamo di spalla l'allarme. Vediamolo insieme. SOS siccità. La produzione di vino e olio cala del 30%. La nuova ondata di calore che si appresta a investire le marche fa tornare in primo piano una criticità mai sanata. L'allarme siccità. I danni iniziano a farsi tangibili in agricoltura. Coldiretti ha stimato che nelle produzioni di vino e olio la flessione si assesterà su meno 30%. Si va verso lo stato di emergenza. Salgono a 92 i comuni che hanno emanato ordinanze antispreco. E dunque l'approfondimento del Corriere Adriatico nelle prime due pagine proprio in primo piano è sulla siccità. Tra l'altro trovate come potete vedere anche una mappa delle criticità con i comuni, 92 comuni della regione che hanno già emanato ordinanze antispreco divisi per provincia. E poi l'indicazione delle produzioni, i commenti e le previsioni perché da oggi torna il caldo africano. Questo è il Corriere Adriatico. Ma non abbiamo ancora finito perché abbiamo le brevi di cronaca. Sempre da Ancona, operaio del cantiere ucciso dall'amianto, maxi risarcimento. Si tratta di una decisione del Tribunale di Ancona nei confronti dei familiari di un operaio della Fincantieri che purtroppo ha perso la vita per mesotelioma pleurico. Sappiamo una malattia strettamente legata alla polvere di amianto, quindi una malattia professionale. E poi ancora per la cronaca ci spostiamo a Numana. Bully shock in riviera, gare con lo scooter, strike con i cassonetti. Dunque notti di paure, soprattutto notti non proprio tranquille per i turisti di Numana con questo problema. E poi tra le brevi la tragedia di Fabriano sbalzato dalla moto che poi lo travolge, muore a 31 anni. La terribile notizia di cui vi abbiamo dato anche noi, ieri di cui vi abbiamo raccontato. Si tratta di Gianmarco Michelangeli che purtroppo ha perso la vita a soli 31 anni in un incidente in moto. Ci spostiamo in taglio basso. Il porto, primo schiaffo al porto, più risorse a Pescara. Parliamo ovviamente del neo segretario generale dell'autorità di sistema portuale, Salvatore Minervino. Il capitano di Vascello che viene dall'Abruzzo. Dicono tutto sul capolavoro messo a punto da regioni authority. Questo è il commento del Corriere Adriatico. La beffa quindi potrebbe essere, o già come è stato annunciato, che ci siano meno risorse per la nostra regione e molto vada verso l'Abruzzo. Pescara necessiterà di più risorse. Non basta dentro anche vasso. Quindi queste dichiarazioni non lasciano purtroppo ben sperare. E poi in taglio basso, una notizia breve di cronaca, botte in spiaggia alla compagna per una foto. È accaduto a Falconara. L'uomo appunto ha preso a botte la compagna per gelosia ed ora va in carcere. È stato arrestato. E questa era la prima pagina del Corriere Adriatico di oggi. Ora ci spostiamo molto più in giù. Andiamo ad Ascoli. La testata con la crisi del commercio, sempre collegato purtroppo al problema dei rincari. I rincari che pesano sui consumi. Colpa anche degli aumenti di energia, carburante e confezionamento. I negozianti, i margini di utile, cominciano a restringersi. Se continua così avremo problemi seri. Quindi insomma è un po' tutto collegato anche con l'aumento dei prezzi. E invece una bella notizia arriva dalla foto che pubblica il Corriere Adriatico. L'elogio social fa 100.000 like. Verdone ad Ascoli. Incanto da visitare. Il post di Verdone sui social che ha superato i 100.000 like. Insomma fa fare veramente una bella figura la città di Ascoli. Anche se non ce n'era di sicuro bisogno. Di spalla ancora l'allarme siccità che abbiamo già visto. Poi tra le brevi si parla della Quintana di Ascoli da record. L'incasso quest'anno ha superato i 75.000 euro. Invece a San Benedetto arriva Food Hub. Uscite in mare e cibo. La tappa del tour. Quindi iniziative turistiche. Ma ci si resta San Benedetto per il problema della 14.000 percorsi a ostacoli della terza corsia. Summit proprio in città tra i sindaci della zona più interessata. Quella messa peggio. Quindi i sindaci di Porto Sant'Elpidio, Pedaso, Grotta Mare. Cupra appunto San Benedetto per valutare le azioni da fare per avere questa benedetta terza corsia. E' proprio il caso di dirlo. E poi purtroppo in taglio basso un altro incidente. Un altro morto sulle strade. Scontro tra scooter e auto. Muore Centauro di 42 anni. Uno scontro che è avvenuto in Abruzzo ma riguarda un uomo. Un giovane di 42 anni che era residente ad Ascoli. La vittima originaria di Teramo viveva ad Ascoli. Doveva andare a lavoro all'acquapark di Tortoreto. Con il suo scuterone procedeva in direzione mare. Quando è andato a scontrarsi frontalmente con un'auto. Si tratta di Federico Di Battista. 42 anni. Originario di Teramo ma residente ad Ascoli. Morto sul colpo. Si stava recando al lavoro. Quindi anche un incidente sul lavoro. Uno di quegli incidenti cosiddetti in itinere. E a proposito di lavoro. Whirlpool comunanza tra le brevi in taglio basso. Si lancia un appello alle istituzioni. Quindi si chiede aiuto per quanto riguarda la questione Whirlpool. E l'assessore Aguzzi risponde. È previsto un incontro. Il prossimo 22 tra regione, province e appunto i vertici della Whirlpool. E questa è la prima pagina del Corriere Adriatico di Ascoli. Ci spostiamo ora nel Fermano a Fermo dove si parla ancora di Covid e di vaccini. Intestata a vaccini. Si stringe sugli hub il problema di trovare i luoghi dove somministrare il vaccino. Contagi in risalita. L'area vasta si attrezza. Per ora si punta sul centro di Monte Granaro. Infermieri e tecnici. Il Fermano è penalizzato. E al pronto soccorso lascia il primario Valentino. Questa è la notizia del giorno. Il primario Alessandro Valentino del pronto soccorso di Fermo. Molto apprezzato. Ha vinto un concorso a San Marino. Lui è originario dell'Emilia Romagna. Quindi ha riferito che lascerà dopo l'estate per motivi personali. Perché si avvicinerà a casa. La fotonotizia. Nuova viabilità a Porto San Giorgio. Svolta sul doppio senso. Ovviamente parliamo della tanto discussa pista ciclabile che era stata anche al centro della campagna elettorale. Dei confronti tra il sindaco Vesprini e l'altro candidato Francesco Gramenia. Ora si cerca di capire. Questa è una foto del lungomare nord. Come, diciamo, sistemare la viabilità. Ovviamente mettendola a doppio senso, come vorrebbero gli chalet, si perderanno dei parcheggi. Quindi non è un problema di facile soluzione. E poi, tra le brevi, fermo consigliere immigrato. E ora richiamo voce a chi resta ai margini. Le elezioni del consigliere immigrato che erano state rinviate causa Covid. Ora, finalmente, si faranno a breve. Invece, a Porto Sant'Elpidio, ancora si discute attorno alla ex FIM. I civici sono in pressing. Hanno presentato un esposto. Vogliono presentare un esposto alla Corte dei Conti. Aspettiamo le firme. Invece, a Sant'Elpidio a Mare, dove si sta insediando, si è insediata la nuova giunta, primi progetti e sfide per i nuovi assessori di lavoro in sinergia. E ancora, sempre in taglio basso, la notizia, appunto, sull'autostrada. I sindaci chiamati a confronto con la Regione a San Benedetto, di cui vi abbiamo già parlato prima. Il fermano è fortemente colpito, così come l'area di Ascoli, la provincia di Ascoli Piceno, lungo la costa, dalla questione terza corsia. E poi, in un'altra breve, in taglio basso, falsi venditori e anche ladri scattano due denunce. Fermavano le persone cercando di vendere della merce e poi, in realtà, sfidavano gli oggetti di valore. Ci spostiamo a Macerata. La testata dedicata al mondo calzatuliero, scarpe, una buona notizia. L'export torna a correre giro del mondo per cercare alternative alla Russia. Sappiamo che molti calzatulieri esportavano ingenti quantità di prodotti verso la Russia. Si punta ora sui mercati di Giappone e Corea. Il volume d'affari del distretto maceratese supera i livelli pre-Covid. Buoni riscontri dalle fiere. Quindi, questa è una buona notizia per la nostra economia. E poi, un altro incidente, la fotonotizia dedicata a uno schianto terribile che si è verificato nel maceratese a Monte Cosaro, auto contro un albero. Il giovane, incastrato tra le lamiere grave, un ventenne, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Torrette di Ancona. Speriamo che si riprenda. Tra le brevi, Tolentino, giunta comunale, Sclavi, tiene per sé cultura e lavori. Mentre a Macerata, verde selvaggio lungo la ferrovia, scatta l'ordinanza da parte del comune. A Cingoli, invece, vandali scatenati nel mirino, finisce pure il parco giochi. Quindi, un problema, purtroppo, che torna in tutte le città, quello del vandalismo e spesso dei giovani che distruggono strutture comunali. E poi, la questione della dogana di Civitanova Marche, in taglio basso. La dogana declassata a danno per le imprese. L'allarme è lanciato da 22 ditte. Chiesto un confronto. Il ridimensionamento penalizzerebbe il territorio. Declassamento della dogana di Civitanova. Ora, anche le aziende industriali, oltre a quelle di spedizione e logistica, lanciano un appello. Sono 22 le ditte delle province di Macerata. È fermo a manifestare preoccupazione. Un danno per le imprese. Il territorio verrebbe penalizzato. E, invece, l'ultima breve. A Porto Recanati, il piano dei parcheggi debutta. Previsti più stalli. Quindi, una buona notizia per chi cerca un posto per l'auto a Porto Recanati. Ci spostiamo al Corriere Adriatico di Pesaro. La testata via Marche Nord. Consenzi il piano presentato ieri proprio a Pesaro, dalla regione, con il presidente Acquarale e l'assessore Salta Martini. La riforma. La direttrice dell'azienda di Pesaro è favorevole. Il personale ospedaliero si mostra collaborativo, anche se li apre alla regione. Ricci, quindi, al momento, resta solo. La fotonotizia dedicata al Sealy Gate. Ecco la rotatoria. Dopo vent'anni si è finalmente insediato il cantiere di Anas lungo l'Adriatica. E, invece, tra le brevi circonvalazione Santa Veneranda di Pesaro, picchetti nelle aree interessati. E sempre a Pesaro l'allarme. Mancano quasi 40 vigili del fuoco. Siamo allo stremo, dunque, carenza di personale. E poi Fano Superstore Coop, che è stato inaugurato proprio ieri, sotto passi e piste nell'investimento. E poi una notizia di cronaca, in taglio basso, che arriva da Pesaro. La cocaina da spacciare è pagata con le ricalche. Coppia accusata non solo dello smercio di droga, deve rispondere anche del reato di riciclaggio. Riciclaggio, spaccio e riciclaggio di denaro in due a processo. Si tratta di una ramificazione di un'indagine più complessa, che ha già visto condanne pesanti per alcuni membri di gruppi campani che operavano sul territorio pesarese. Ieri, davanti al collegio di Pesaro, sono finiti un 42enne e un 26enne. E poi di gestor un ricorso al TAR, eppure contro Fano. Questa è l'ultima breve che abbiamo letto sul Corriere Adriatico di Pesaro. Ci spostiamo molto velocemente al resto del Carlino, ma iniziamo da Ancona. Ecco la prima pagina del Carlino di Ancona. L'attestata dedicata al problema dei migranti che sostavano davanti alla questura con bivacchi e non solo. Trovati i primi 12 posti. Il prefetto spazio a chi ha più urgenze. I residenti avviano una petizione per questo problema. La fotonotizia dedicata al terribile incidente di Gianmarco Michelangeli, con la sua foto, ha perso il controllo della sua moto BMW, sbanda e muore nel dirupo questo terribile incidente stradale. E poi ancora, anche tra le brevi, lotta al Covid. Casi in aumento, il DG Azure storti. Fate subito la quarta dose. Sappiamo che oramai, questo è il terzo giorno in cui è possibile anche per gli over 60, prenotare la quarta dose. E quindi, insomma, l'invito è ad effettuarla. Operaio morto per le fibre d'amianto, maxi risarcimento. Ve lo abbiamo accennato prima, si parla di circa 750 mila euro per la famiglia. E poi la finanza in provincia. 10 milioni di bitcoin riciclati, perquisizioni dunque da parte della finanza. Nei confronti del... adesso si arriva a riciclare anche bitcoin, non solo il denaro. Tra le brevi, con foto, Muti suona note di pace. Musica contro il mare, il male in piazza del santuaglio a Loreto, con la foto del maestro Muti. E poi la cronaca, da Iesi, maxi sequestro per l'azienda di Bocchini. Decreto del GIP per 1,6 milioni alla Clabo, la società del presidente di Confindustria. Questa quindi la notizia di cronaca che riguarda una figura di spicco. Stiamo parlando dell'azienda del presidente di Confindustria. Ora ci spostiamo in giù. Ascoli fermo, prima pagina, tra le brevi in taglio alto. Boom di contagio ai vaccini, farmacie in prima linea per la somministrazione nel Piceno. E poi ancora si parla della sicurezza a Lido Trearchi. Il prefetto sì all'integrazione, dunque il problema di Lido Trearchi che non è nuovo. Poi la testata dedicata a uno stupro, la condanna a 7 anni all'ex guardia giurata. Maxi condanna per le ripetute violenze e minacce sulla fidanzata che il 48enne ex guardia giurata mandò anche in ospedale. Quindi una notizia di cronaca giudiziaria. E poi ancora tra le brevi post terremoto 300 milioni per ricostruire anche imprese e tessuto sociale. Quindi la notizia dei fondi che arrivano dal PNRR e non solo. L'allarme con la fotonotizia del Carlino. La guida a Peluzzi, Aristio, la montagna per crisi climatica e anche per turisti cafoni salviamo la montagna. E poi ancora tra le brevi vi segnaliamo da Cupra scavi aperti per il parco archeologico. Gli studenti dell'Università di Napoli guideranno i visitatori dentro il sito. Sarà possibile dunque visitare gli scavi bellissimi di Cupra. E ancora tra le brevi di Spalla la Quintana di Ascoli con il record di incassi. E poi si inizia a parlare anche della cavalcata dell'assunta di Fermo. Dalla danza alla letteratura. Ecco le belle della cavalcata. Quindi la presentazione delle dame. Questa è la pagina di Fermo. Ora passiamo a Macerata. Anche qui testata dedicata ai contagi tornati ai livelli di febbraio. In provincia 5.500 positivi come durante il picco dello scorso inverno. Ma i ricoverati sono la metà. Dunque questa comunque è una notizia positiva. Più contagi ma meno ricoveri. E poi tra le brevi di fondo. Cosmali dopo il rogo. Nuovo impianto per trattare i rifiuti. Filtro per limitare i cattivi odori. Questa è la speranza di tutti coloro che abitano anche nelle vicinanze. Sempre da Macerata al vertice dei vigili. Parcaroli. Il sindaco firma la proroga per il comandante Danilo Doria. Parliamo dei vigili di Macerata. La fotonotizia dedicata al grande caldo che sta arrivando. Il climatologo Fazzini ci aspettano picchi di 39 gradi. Altri 10 giorni senza pioggia. Dunque il caldo non è affatto finito. Anzi, tra le brevi in taglio basso. Porto Recanati. Ecco il piano per 300. Parcheggia. Arriva l'annuncio di Dezi e Michelini. Oltre 100 posti gratuiti all'ex hotel Regina. E poi Rebus Assessori a Civitanova Marche. Anche qua si è votato. Dunque adesso si sta decidendo. Per la giunta il tavolo regionale scontenta le liste civiche. Solo i partiti partecipano alla trattativa per definire la squadra di Ciara Pica. E poi ci spostiamo di spalla. Vediamo Rebus Lavoro. Villa Cortese li apre dopo mesi di stop. Non trovavo personale. Questo è l'ennesimo allarme di ricerca del personale lanciato da un datore di lavoro. In questo caso si tratta di Villa Cortese. E poi a Tolentino anche qui si parla di deleghe e di giunta. Sclavi tiene i lavori pubblici. Il bilancio va ad Aloisi. E questa è la prima pagina del Carlino di Macerata. E ora ci spostiamo a Pesaro. Dove vediamo subito la notizia principale. La regione incassa il Sì dei Medici. Il piano di cui vi abbiamo accennato prima. Presentato ieri da Salta Martini. La riforma sanitaria. L'azzeramento di Marche Nord. Acquarola e Salta Martini promettono. Miglioreremo i servizi. La breve in taglio alto. Le opere compensative per la terza corsia. Quindi si torna a parlare di strade. Maxi rotatoglia sull'Urbinate. Bretellina di Santa Veneranda. Autostrada parte con gli espropi. Però sì insomma la terza corsia è una buona notizia. E poi le brevi di fondo. Stagionali la polemica. Un cuoco pagato 4.000 euro. Trovatelo gli stringa la mano. Dunque continua la polemica tra chi offre lavoro e chi lo cerca. La Kermess invece parliamo di cultura e spettacoli. Oggi scatta nel Pesarese l'Ulisse Fest. Tre giorni a tutto spettacolo. E poi ci spostiamo dall'altro lato di spalla. Lavori solo annunciati. Galleria Roma. Il Comune in difesa. Prima di tutto la sicurezza. E invece parlando sempre di lavori e di strade a Fano. variante di Gimarra. Finalmente è stato deciso il tracciato. Tra le brevi in taglio basso invece si parla di sport. Basket. VL si fa in salita. La strada per Robinson. E invece per quanto riguarda la VIS. Ufficiale Ega e Garebba. Altri tre colpi in canna. Arrivano anche a Uccelli, Campani e Gazzuini. E questa è la prima pagina del Carlino di Pesaro. Ora molto velocemente vediamo un attimo un accenno alle notizie nazionali. Ovviamente prima pagina online di Repubblica. La crisi di governo. Draghi si dimette la grande trattativa. Per l'ultimo tentativo serve il sì di Salvini. Mattarella frena l'ira del Premier ma senza fiducia si va alle urne. Come ben sappiamo un mercoledì avremo la verità. E sapremo se si andrà a votare. Qualcuno parla già di ottobre. Oppure si riuscirà a creare un altro governo sotto il ricordo di Eugenio Scalfali. Amico Laico mi mancherà parlare con te. Questo è il ricordo del Papa. Un grande giornalista che ci ha lasciato. Ci spostiamo velocemente al Corriere. Anche qui Draghi si dimette piano inclinato verso le urne. Ma c'è chi tratta. Il Premier irremovibile. Tensione tra i ministri. E questa dunque tutta la pagina dedicata alla crisi politica. E poi un cenno all'Ucraina. Ambasciata USA e gli americani lasciate subito l'Ucraina. Questo l'allarme. Gli Stati Uniti hanno invitato tutti i cittadini che si trovano a Kiev a lasciare immediatamente la città e lasciare la regione. L'accusa di Zelensky. 200.000 bimbi ucraini rapiti dai russi. E questo era il Corriere della Sera. Il tempo si sta esaurendo. Io vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di continuare a seguirci sul 12 sul nostro sito.